Eh, sta girando. Ok. Ja. Buonasera a tutti, benvenuti a questa nuova conferenza dell'Associazione Culturale La Semina. Anche questa sera abbiamo due ospiti di eccezione. Come sapete, il tema della serata è educazione finanziaria come risorsa per la vita. Questa è la parte prima e il sottotitolo ci domanda cosa ci può insegnare la storia. Allora abbiamo come relatore il professor Giuseppe De Luca. Come avete visto già dalle email e dalle informazioni che vi abbiamo mandato, c'è un curriculum di tutto rispetto, lo sintetizzo. Il professor Giuseppe Luca è professore di storia economica presso l'Università degli Studi di Milano e sarà intervistato e conduttore di questo incontro è il dottor Marco Canzi. Il dottor Marco Canzi è presidente di ACSM Agam e il dottor Marco Canzi è un laureato in Economia e Commercio all'Università di Pavia dove abbiamo scoperto che nel lontano 95 si laureò con 110 lode. E questo è il dottor. Vabbè, questo... Bene. Grazie a voi, io lascerei la parola al dottor Canzi che introduce la serata. Buon ascolto, grazie a voi. Sì, grazie Pierangelo, grazie per avermi subito messo in imbarazzo, ma va bene così. No, beh, chiaramente è un piacere essere qui con la Semina che come chi segue sa anche io seguo appunto con interesse e passione dalla sua nascita e in particolare quando ci sono tematiche diciamo economico-finanziarie con piacere mi rendo disponibile per seguire questi vari interventi. Quello di questa sera mi sembra come dire un tassello molto importante da affrontare perché si parla appunto di informazione finanziaria e proprio da qui vorrei partire, cioè quindi chiedere al professor De Luca com'è che in un mondo nel quale viviamo che è ormai essenzialmente economico un po' in tutti i suoi rapporti ed è caratterizzato anche da, come dire, un'inflazione di informazioni che ci arriva da tante parti ecco, com'è che facciamo queste iniziative che si collocano nel mese dell'informazione finanziaria come se ci fosse appunto bisogno di questa informazione finanziaria ed educazione vera e propria. Ecco, oggi chi dobbiamo educare e riguardo a che cosa? Allora, grazie mille innanzitutto della domanda poi volevo ringraziare la Semina per questo invito per la possibilità di quindi incontrare così vasto pubblico e affrontare un tema così rilevante, così centrale diciamo a 360 gradi l'esigenza di un'educazione finanziaria nasce dopo la crisi del 2008 dopo la crisi che comincia nel 2007, deflagra nel 2008 quando ci si rende conto a tutti i livelli dal, diciamo, dalla scolarità dei bambini alla formazione degli executive manager che avevano gestito e affrontato le grandi banche durante la crisi che effettivamente la conoscenza dei meccanismi finanziari della storia finanziaria delle inganni del mercato era prossima allo zero gli operatori finanziari e gli storici erano affetti da quella che la London School of Economics ha definito quando la regina gli disse ma voi, no? mandò a visitare all'indomani della crisi il Dipartimento di Economia e disse siete così bravi, così brillanti, così aperti e come mai non avete previsto la crisi allora tutti questi grandi scienziati si riunirono e produssero questo libretto sulla cosiddetta financial amnesia cioè sull'amnesia finanziaria nel senso che tutti gli scienziati si erano dimenticati di come funzionavano le crisi di quello che rappresentavano le crisi le crisi non erano il cigno nero le crisi nella storia finanziaria sono il cigno bianco sono ricorrenti e poi lo vedremo non solo, ma questa ignoranza da parte degli operatori aveva portato a sottovalutare le possibilità di crisi quindi avere una fiducia smisurata nell'andamento del mercato nella crescita continua dei valori questo poi ha a sua volta avuto il riflesso di un'analisi su l'alfabetizzazione finanziaria di tutti i paesi sono nati comitati diciamo in tutte le parti nei paesi più avanzati dove c'era effettivamente un settore finanziario quello che si è visto adesso ve lo posso provo a condividere un po' lo schermo per farvi vedere qualche ecco qui ora vediamo ecco questo che cos'è l'educazione si vede molto bene ecco ecco allora devo però riprendere scusate che cos'è l'educazione finanziaria ecco ne abbiamo bisogno allora vi porto il dato più aggiornato ma le percentuali non sono cambiate in Italia un quinto dei giovani ha una preparazione gravemente sufficiente sull'educazione finanziaria cioè non riesce a dire cos'è un tasso di interesse cos'è l'inflazione cos'è un interesse composto cosa vuol dire la diversificazione del rischio qual è il rapporto fra vendimenti è solamente una persona un giovane su quindi c'è una preparazione adeguata a livello degli adulti un terzo degli adulti è analfabeto funzionale il valore più alto in Europa e del valore più basso fra le economie avanzate e questo è tanto più preoccupante in quanto l'Italia vent'anni fa era il paese più risparmievole diciamo così al mondo adesso abbiamo un tasso di risparmio all'8% dopo la crisi la capacità della classe media si erosa e quindi risparmiamo sicuramente meno però ci rendeva uno dei paesi che aveva quindi una potenzialità di investimento fra i più alti al mondo non solo ma adesso senza andare a vedere il sito sul del ministero quindi del comitato per l'educazione finanziaria c'è un gender gap c'è un problema anche di genere le donne hanno una preparazione di 10 punti in questa pura insufficienza inferiore a quella dell'uomo dopo il covid l'ansia finanziaria delle donne è arrivata al 41% in questo valore rispetto a quella dell'uomo che è del 30% la paura del domani e la difficoltà ad esempio c'è una la misurazione della capacità di sapere recuperare 2000 euro nell'arco di 6 mesi rivolgendosi a diversi operatori ecco le donne si dimostrano incapaci e sgomenti rispetto a questa richiesta e questo ha delle conseguenze adesso vediamo perché è importante l'educazione finanziaria sull'esistenza sulla vita quindi da un lato l'educazione finanziaria ha una necessità e ha un impatto microeconomico cioè sull'individuo sul benessere individuale chi ha un'alfabetizzazione finanziaria è in grado di accrescerlo cioè quindi di migliorare la spesa il risparmio l'investimento essere consapevole chi non ha questi strumenti è molto spesso preda anche di una sorta di sovraffidamento rispetto al rappresentante maschile della famiglia si è visto che nei problemi della violenza familiare del ahimè in questi ultimi anni il risultato sempre più vidente dei femminicidi di questi rapporti che non riescono a essere scissi c'è proprio anche un vincolo di dipendenza finanziaria laddove la donna vede l'abbandono vede l'essere da sola di fronte alla gestione come un grosso problema e questo ha delle origini anche storiche questo gender gap è classicamente italiano rispetto agli altri paesi e deriva molto spesso dal fatto che nelle famiglie la madre che ha una funzione educatrice di trasmissione di valore rispetto alle ragazze non ha quel livello di diciamo lavoro come negli altri paesi cioè è il riflesso del fatto che le donne in Italia lavorano meno che negli altri paesi e quindi la donna che non lavora ha una consapevolezza inferiore e questo viene anche per i giovani per i nostri giovani negli altri paesi il ragazzo a 14 15 anni 12 anni 18 anni quando fa l'università è abituato a confrontarsi col mondo del lavoro il mondo del lavoro ha una funzione educativa non solo diciamo quando si fa il tutoraggio il tirocino per le proprie scelte professionali ma quando uno fa il cameriere o fa il ragazzo di bottega e studia all'università medicina esce dall'alvio familiare e si confronta con il valore del denaro commisurato alla paga oraria quindi negli altri paesi questo crea un'abitudine a confrontarsi con altri temi quindi delle skill delle soft skill fra cui rientra quella finanziaria molto più alta rispetto all'Italia e quindi questo è un tema diciamo la funzione micro economica dell'educazione finanziaria quella che sta al margine cioè quella che impatta sul benessere individuale di ognuno di noi sulla capacità quindi di programmare di affrontare i problemi e quanto altro c'è poi il problema invece diciamo macro economico quello che riguarda la politica economica appunto dopo la crisi del 2008 all'ennesima crisi finanziaria all'ennesima bolla finanziaria che ha sempre lo stesso schema poi lo vediamo ci si è resi conto che diciamo alzare la staccionata quando i buoi sono usciti è una rincorsa vana perché si fanno staccionate più alte più forti ma diciamo chi deve scappare al mercato trova anche sempre nuove soluzioni quindi dopo ogni crisi c'è un forte intervento regolatore come c'è stato anche dopo il 2008 ma c'era stato dopo la crisi del 1929 c'era stato dopo la Nansh al Babbo del 1987 dopo la bolla dei tulipani e così via ma è una rincorsa senza successo perché è una regolazione appunto diciamo così dell'offerta cioè degli operatori delle banche dei mercati no dei professionisti ma non si può sperare che cambi la moralità di queste istituzioni che il mercato non trovi altre soluzioni la soluzione vincente che segna una svolta no in tutta la storia delle crisi è quella invece di lasciare continuare sì a operare una regolazione e una sorveglianza e una vigilanza dal lato dell'offerta ma di porsi dal lato della domanda cioè proviamo a educare ad alzare il livello di consapevolezza dei soggetti che diventano i clienti delle banche dei mercati finanziari e quindi che diventano coloro che poi investono investono male no o credono a cioè proviamo a educare in qualche modo il comportamento irrazionale che c'è o quantomeno alcune dinamiche che non sono efficaci verso no chi compra i prodotti finanziari in modo tale che agiamo no sui due binari della fornitura dei servizi e quindi non solo lasciamo il campo aperto a degli erogatori di prodotti di servizi che si confrontano con una diciamo così con una clientela che è sempre più disarmata ignorante no e dominata da dinamiche che non sono quelle diciamo proprie no ma che sono altre adesso poi le vediamo quindi questi sono i motivi no della eh grossa politica di educazione finanziaria che in tutti i paesi si è in qualche modo sviluppata dopo la crisi del 2008 proprio per migliorare la risposta della domanda dei potenziali clienti e aumentare quindi anche la resilienza finanziaria della popolazione grazie eh devo dire che già in questo primo in questo avvio di intervento ha messo sul tavolo tantissime tantissime tematiche eh molto ampie ecco cominciamo da da una e poi andiamo avanti sulle altre ehm lei ha accennato al fatto di eh come dire una situazione che è diciamo abbastanza comune nel nell'intero mondo ma ha anche eh come dire una sua una sua specificità italiana ecco intanto vi chiederei una conferma su questo quindi quanto la situazione italiana è davvero più arretrata tra virgolette rispetto alle alle altre realtà di riferimento con le quali ci confrontiamo e secondariamente eh da cosa dipende o da cosa può dipendere cioè dobbiamo andare alla radice di quelle che sono le competenze di base che attraverso la scolarità noi eh forniamo appunto i nostri giovani e quindi mh c'è un tema magari di prevalenza storica di disciplina umanistica a scapito di quelle magari più scientifiche tra le quali collocare anche l'economia oppure il fatto che trattandosi di economia magari un po' si tende a banalizzare a ritenere che sia questione quotidiana e quindi non necessiti in realtà di grossi investimenti eh in termini di proprio di studio di formazione sì diciamo sono tutti questi fattori che concorrono no? sicuramente c'è una tradizione eh formativa di un certo tipo la nostra didattica dal dalle scuole diciamo primarie ai gradi più elevati e forse più ai gradi alti che non nella formazione diciamo di base resta in qualche modo un'istruzione molto ehm usiamo il termine eh eh molto cattedratica no? molto una trasmissione di nozioni adesso sta cambiando e anche eh la la Dada ha contribuito a questo no? però il docente che trasmette le nozioni ha una platea fatta di persone diverse che quindi eh trarrà delle eh competenze in modo diverso ma è la tradizione gentiliana no? la tradizione quindi della prevalenza del sapere eh filosofico e umanista se vogliamo c'è poi su questo un certo disprezzo una certa considerazione minore della formazione tecnica della formazione che invece va più sul campo che è più caratteristica degli altri paesi eh c'è poi il ruolo della famiglia la famiglia in genere è un grande incubatore no? adesso posso parlare con cognizione di causa a questo punto perché insomma i miei figli cominciano a avere più di vent'anni no? li ho visti e poi insegnando anche e occupandomi di didattica ho potuto sperimentare cioè una tensione alla protezione eccessiva quindi come dicevo prima scarso confronto con il mondo del lavoro scarso confronto con la realtà che non siano quelle familiari no? iperprotezione e di conseguenza il ragazzo non entra in contatto con una realtà che non è quella familiare se non quando ha finito di fare gli studi no? deve a un certo punto poi buttarsi nel mare no? non è invece attrezzato a fare altro a confrontarsi adesso insomma le esperienze crescono però confrontarsi con una realtà in cui le grandezze economico-finanziarie sono importanti tu presti un servizio chiedi quindi una una retribuzione il rispetto dell'orario no? e quindi conoscere questo il gap di genere deriva poi dal fatto che appunto ahimè in Italia per questioni strutturali per difficoltà anche per scasso intervento della politica economica da sempre le donne sono meno protette quindi sotto il profilo lavorativo lavorano meno percentualmente che negli altri paesi quindi diciamo così le figlie no? anche in giovane età sono meno no? ovviamente fatte le salve eccezioni spinti al confronto con queste realtà e allora l'economico non solo è il quotidiano ma è anche qualcosa per cui c'è una considerazione di sufficienza sì no ma non è una cosa importante è una cosa che poi oppure quando si sente parlare sui mezzi di informazione il debito pubblico il tasso di interesse l'inflazione sono cose che appunto complicate perché sono numeri no? sono azioni sono percentuali che sono di una poi semplicità sconvolgente però il classico esperimento che noi facciamo sempre no? arriviamo al terzo anno del del triennio oppure al ancora di più quando c'è le lauree magistrali chiediamo appunto il primo principio della termodinamica il terzo principio della termodinamica e su 80 persone due tre che pure vengono dal liceo scientifico abbozzano qualcosa no? poi gli chiedi come inizia nei promessi sposi la divina commedia ne sanno almeno sei o sette righe no? andiamo alle magistrali con un'utenza straniera le cose cambiano no? gli studenti sanno qual è il primo principio della termodinamica sanno quali sono le leggi le equazioni no? banalissime però questo è importante quindi è un deficit complessivo e tutto gioca per fare sì che il nostro ehmè ehmè formativo continua a non essere efficace in questa direzione no? perché considera comunque queste competenze competenze trasversali competenze di base competenze per la vita molto distanti ma mia esperienza di insegnanti vengono dalla tradizione di ehm mia madre maestra mia sorella insomma la mia famiglia anche ehm mia moglie insegna alle scuole medie adesso loro hanno un'importante azione didattica per le competenze per le life skills no? ci si è resi conto e quindi si interviene fin dall'inizio perché poi soprattutto per le nuove le generazioni che vengono dal eh da paesi fuori dalla comunità europea questo è ancora più importante per allinearle no? con dei codici invece eh nazionali perfetto quindi eh effettivamente siamo eh ancora appunto dover intervenire su questa diciamo tradizione eh che anche in altri campi un po' ci ha penalizzato quindi questo guardare alle professioni tecniche alle materie tecniche sempre con una certa diffidenza diciamo ecco ma eh in termini quindi economico finanziari c'è un set minimo di strumenti che quindi tutti dovremmo possedere e nel caso quali sono allora se adesso provo a condividervi eh vediamo un po' allora perché ho alzato allora la bc interrompo la condivisione devo prima imparare allora scusate mi devo diminuire il lo zoom perché altrimenti non vedo nulla allora nel sito eh eh appunto del comitato eh adesso riprendo la condivisione nel sito del comitato per l'educazione finanziaria eh posso ok condivido questo adesso condivido questo vedete le sette cose da sapere non ancora non ancora sta arrivando ecco eccolo si vede si si vede no eccole qua perfetto ecco eh c'è un bellissimo sito che viene popolato ormai è cresciuto negli ultimi quindici anni www.quellocheconta.it il sito del comitato per l'educazione finanziaria la presidenza del consiglio il ministero per il sviluppo economico che ha individuato eh sette diciamo punti fondamentali nell'ABC no delle cose che contano e sono cos'è il tasso di interesse cos'è il tasso di interesse composto cos'è l'inflazione cos'è la diversificazione del rischio cos'è la relazione di rischio rendimento cos'è il rischio di longevità cosa sono l'assicurazione e trasferimento del rischio adesso senza entrare e discuterne troppo perché poi gli ascoltatori possono eh liberamente navigare e approfondire ehm diciamo il nucleo fondamentale che sta alla base dell'educazione finanziaria oltre al rischio collegato all'investimento è quello è quello che ehm diciamo il valore ecco il valore della moneta il valore quindi del nostro lavoro anche il potere di acquisto non è assoluto no non c'è un valore non c'è una remunerazione che può valere adesso e ha e conserva la stessa capacità di spesa di acquisto per sempre per tutta la vita di un lavoratore come Colombo quando eh parte alla volta del nuovo mondo no e scrive nel suo diario per un numero eh altissimo di volte cinquantasette volte la parola oro perché cercava l'oro perché allora no alla fine del del quattrocento era considerata la cosa l'elemento di maggior valore poi quando torna eh ed avvio a questo fiume d'argento che si propaga per l'Europa per la prima volta si verifica l'inflazione un'inflazione sensibile quella che viene chiamata rivoluzione dei prezzi e che Vigo ha studiato noi tutti abbiamo studiato ecco lì per la prima volta eh la civiltà occidentale è di fronte a questo mistero di qualcosa che più se ne ha e meno vale no quindi questa è l'inflazione no cioè eh l'aumento dei prezzi l'aumento dei prezzi dei servizi l'aumento le cose che costano sempre di più è legato a proprio questo cioè legato al fatto che la circolazione dei mezzi di pagamento è superiore rispetto all'offerta e quindi il rapporto fra merci e massa monetaria è a favore eh nella seconda e quindi i prezzi aumentano e quindi il nostro potere di acquisto no cos'è l'inflazione diminuisce se io guadagno 100 oggi no in un anno guadagno 100 e l'inflazione è del 2 3 per cento l'anno successivo se io continuo a guadagnare sempre 100 il mio potere di acquisto sarà diminuito di quella quantità vale a dire se un etto di mortadella da 15 euro al chilo diventa 17 euro al chilo e io continuo a guadagnare sempre 100 il risultato è che io posso comprare con la stessa quantità una quantità inferiore di mortadella quindi questo è molto importante perché oggi ad esempio l'adeguamento all'inflazione è un meccanismo che non è più così automatico non viene eh ufficializzato ad esempio per la categoria dell'insegnante durante la crisi negli anni dell'austerità 2010 2011 i meccanismi di integrazione degli stipendi oltre i 2000 euro sono stati fermati e venivano integrati solamente quelli delle pensioni sotto no fra la minima e i 1000 euro però la classe media ha avuto un forte defalcamento della perdita del potere d'acquisto quindi la conoscenza dell'inflazione è fondamentale così come la conoscenza del tasso di interesse sapere che il tasso di interesse in un risparmio deve essere superiore all'inflazione altrimenti io dopo un anno se l'inflazione è dell'1% e il tasso di interesse è del 0,5% e io lascio i soldi in questa ipotetica banca io dopo un anno avrò perso lo 0,5% in termini reali quindi sono tutti elementi importanti la diversificazione del rischio se io metto tutte le uova in un paniere il paniere cade ho perso tutto quindi devo imparare a distribuire così come le promesse di rendimenti alti vogliono dire rischi molto alti se io investo in azioni che sono un capitale di rischio corro il rischio di perdere tutto quanto quindi non avere solo guadagno quindi queste sono importanti il rischio di longevità io posso pensare di fare un risparmio per dire spenderò tutto quando vado in pensione ma poi se vivo fino a 80 90 auguriamolo 100 anni non ho più risparmi basterà la pensione che mi sono assicurato per le nuove generazioni questo è fondamentale è difficile pensare che un ragazzo oggi diciamo abbia questa sensibilità ma se incomincia a investire a investire in fondi pensioni aggiuntivi appena ci sono dei redditi di un certo tipo sicuramente la prospettiva di avere una buona remunerazione al termine della propria vita lavorativa sarà importante così come la possibilità di stipulare dell'assicurazione contro questi rischi una previdenza sociale un'assicurazione contro gli infortuni contro quanto altro quindi una copertura dei rischi noi siamo abituati all'assicurazione sui mezzi sulla commozione e quanto è ma l'assicurazione di altri rischi anche ad esempio nelle famiglie della vita del capofamiglia rispetto agli altri familiari è fondamentale e questo consente di creare quindi una popolazione che sarà sicuramente meno soggetta alle illusioni no? di quelli che promettono e arrivano e dicono guardate che se tu mi dai questi mille euro come si vede spesso adesso al direttore delle pubblicità online quando capita quando si naviga arrivano questi pop up investi mille euro come ha fatto il tale influencer il tale campione e avrai un quarto al mese ma sono ovviamente delle degli investimenti o molto rischiosi quando sono legali oppure sono delle vere e proprie truffe quindi questo è importante capire che i rendimenti un rendimento anche di 5% all'anno di un prodotto finanziario è un rendimento in questo momento straordinariamente alto che forse per grandi patrimoni per grandi investimenti su fondi diversificati può essere ma no? il caso ad esempio che può interessare molti il costo del denaro è talmente basso che sappiamo poi che vista le difficoltà le incertezze la poca fiducia nel alcuni settori la crisi la pandemia gli italiani hanno diciamo congelato sui conti correnti una quantità incredibile no? di liquidità sono due due mila e trecento miliardi di euro superiore al nostro debito pubblico infatti le banche le banche cominciano in maniera unilaterale Fineco l'ha annunciato a chiudere i conti correnti perché poi ovviamente gli investitori distribuiscono in più conti correnti il conto corrente ora è assicurato cioè anche se la banca fallisce se sul conto ci sono 110 mila euro questi vengono garantiti dal fondo di garanzia nazionale quindi molti correntisti hanno spalmato questi investimenti questi diciamo depositi e ne traggono un minimo interesse che comunque è superiore a quello che invece le banche devono pagare o riescono a ottenere allora queste banche chiudono questi conti correnti perché non possono più remunerare nessun tipo di interesse anche questo è importante sapere quando si apre quando si tiene un conto corrente quanto mi costa il servizio che la banca mi offre se io continuo a fare dei banco ma da 50 euro al 10 volte pago una commissione alla fine quasi pari a un prelievo complessivo e quindi devo razionalizzare i costi rispetto alla gestione di questo patrimonio e questi sono tutti elementi che devono contribuire a educare una popolazione che sia in grado di districarsi in questo ambito che come vedete è molto semplice molto elementare ma finisce per essere poi vogliamo passare ad un altro tema però dominato da credenze in qualche modo da pregiudizi quello è complicato sono cifre sono equazioni percentuali non mi interessano non lo voglio sapere e quindi lasciato un po' in questo campo del nessuno invece bisogna avere un approccio molto semplice molto educativo molto anche pratico le iniziative che vengono messe in atto in questo mese e anche tutti possono trovare sul sito quello che conta punto it sono svariate che è l'educazione attraverso i film l'educazione attraverso i quiz l'educazione attraverso le prove i giochi l'educazione attraverso le grandi testimonianze ma questo è importante è una forma di istruzione non si può non ci si può rapportare a questo ambito senza avere un'adeguata istruzione siccome è un ambito pervasivo come diceva come dicevi tu l'economia è il quotidiano compro spendo ottengo ho la paghetta ho il primo stipendio ho la pensione devo decidere l'investimento l'istruzione deve essere assolutamente preventiva deve essere appunto una competenza primaria non può arrivare dopo non può arrivare troppo tardi quando oramai ci sono pregiudizi ci sono difficoltà ma uno deve proprio apprenderla come è un'alfabetizzazione quasi come quella legata alla lettura e alla scrittura e ai primi calcoli perché non ha nulla di diverso nulla di più difficoltoso ma spesso viene appunto tenuta in maniera un po' così no? sospesa un po' diffidente un po' chissà quali arcani si nascondono dietro questo mondo no? un po' c'è questa dietrologia questo desiderio di sempre dare delle spiegazioni spiegazioni che sono tutto tranne quelle più semplici e reali che però sono spiegazioni che costano studio lavoro quindi formazione adeguata ecco mi pare ci sia un punto nodale se vogliamo in quello che stai raccontando cioè da un lato tu dici permane ancora molto presente questa sorta di diffidenza nell'affrontare nell'entrare nel merito di alcuni strumenti della materia che come dire viene ipotizzata come molto complicata però questo tu ci hai detto ha delle conseguenze e in effetti ti chiederei una riflessione su questo fenomeno che almeno io ho visto e penso sia abbastanza stato già evidenziato che quindi da un lato c'è questo atteggiamento che si diceva un po' come diritto sia dall'altro stiamo assistendo probabilmente amplificato anche dalla pandemia al fatto che tanti tanti soggetti stiano passando all'investimento fai da te quindi che era una tendenza già in atto però esplosa e spesso anche presso i giovani molto importante aggiungiamoci il tema delle criptovalute che sono entrate pesantemente sulle possibilità di investimento specie quelle online ecco quindi è come si affronti una cosa che viene reputata complicata poi dall'altro lato ci si butti spesso senza appunto le competenze di base che tu dicevi in situazioni molto rischiose perché si va a investire su strumenti opachi difficili da controllare ecco volevo capire da un lato quanto conta e se c'è un po' una sindrome da lotteria quindi come se alla fine la gente non vuole entrare nel merito di come funziona questa cosa qui ha capito perché dai media questo è quello che viene che magari c'è la possibilità di guadagnare tanto ci si butta e poi però se ne fanno le spese e quindi qua l'altra domanda è ma c'è qualcuno che quindi guadagna su questa disinformazione? assolutamente assolutamente la finanza diciamo giocata così è un gioco a somma zero passatemi il bisticcio della parola io vinco sulla perdita altrui non c'è una generazione di valore in questo modo perché è una pura speculazione sono alcuni casi degli schemi ponzi cioè vale a dire ci sono emissioni di azioni o di prodotti che sono gonfiati da una grande campagna pubblicitaria e da anche una diffusione di informazioni fraudolenti riguardo la reduttività quindi si incominciano a ripagare i primi dividendi con gli ultimi capitali incassati dall'investimento si gonfia questo castello che poi a un certo punto scoppia e dall'altro sicuramente poi ci sono quindi di speculatori degli insider che giocano in maniera criminale ma ovviamente quello che noi possiamo fare che le dotazioni finanziarie può fare è invece smentire che l'investimento finanziario sia una questione di lotteria adesso per farvi un esempio di come appunto alcune alcune trappole mentali alcuni pregiudizi giochino da sempre provo a farvi vedere un piccolo brano allora vediamo adesso vediamo se mi riesco a condividere qui condivido condivido edge l'eclisse lo vedete? non ancora si 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 vediamo adesso si si perfetto c'è un po' di eco ecco l'obiettivo era un po' questo questo è una scena dell'eclisse di Michelangelo Antognoni di 1962 è la borsa valori di Roma prima dell'unificazione esistevano una decina di piazze e come vedete lei è la rappresentazione archetipica dell'investitore italiano degli anni 50 ma che non è molto lontano da alcuni stereotipi attuali che arriva alla borsa che arriva alla borsa e anziché avere un approccio razionale all'investimento quindi di conoscenza gioca sulla fortuna quindi l'investimento come lotteria si cosparge di sale perché deve scacciare il malocchio come se gli investimenti seguissero queste regole quello che gioca è proprio questo è diciamo una serie di adesso vi faccio vedere quest'altro è una serie di comportamento di comportamenti razionali adesso vi faccio qui sono tutte le bolle che si sono susseguite non vi non ci soffermiamo ecco volevo solo farvi vedere uno schema di Schiller meno inglese ma abbastanza abbastanza semplice dopo anni e generazioni in cui gli economisti hanno continuato a propagandare la razionalità del mercato per sostenere in qualche modo anche la priorità del mercato la priorità di un certo neoliberismo di la necessità di non intervenire di non regolare questi mercati quindi di lasciarli a se stessi proprio per favorire determinati gruppi finanziari determinati atteggiamenti speculativi dopo la crisi del 2008 alcuni studi di Schiller che è stato insinito dal premio nobile dell'economia nel 2013 hanno fatto vedere hanno portato agli onori anche della scienza economica la vacuità della difesa della razionalità del comportamento dell'investitore l'investitore è tutto tranne che un agente razionale segue diciamo quelle che vengono volgarmente chiamate delle trappole mentali sotto il profilo scientifico sono delle euristiche cioè l'uomo non è un uomo economicus non ha un comportamento è una mentalità razionale questo è stato diciamo detto via via ma è sempre rimasto un filone marginale dell'economia che ha dato come si è sostenuto la politica economica non fa scelte razionali è un uomo che la psicologia e la finanza comportamentale ha detto essere un uomo pigro uomo piger cioè risparmia il ragionamento anziché fare un ragionamento complesso che dispiega energie ha tutta una serie di trappole mentali quindi ha un comportamento gregario tutti quanti investono il bitcoin sono un investimento per cui viene il ragazzo intervistato questo ha guadagnato centomila euro da un investimento di mille euro tutti vogliono investire in bitcoin il pensionato di Voghera che con tutto il rispetto della casalinga di Voghera che non ha mai visto cos'è il mercato finanziario non sa minimamente della criptovaluta però vuole investire perché vuole guadagnare poi quello che ha investito in questo titolo che è è sovra affidamento rispetto all'aspettativa positiva noi abbiamo una chiara un chiaro bias una chiara devianza verso un'aspettativa positiva possiamo essere pessimisti ma quando dobbiamo fare un investimento pensiamo sempre che andrà sicuramente bene invece va in maniera equa poi c'è il comportamento emulativo tutti diventano ricchi e anche io voglio diventare ricco c'è il comportamento ossessivo cioè quindi l'uomo sceglie in maniera che è tutt'altro che razionale e di conseguenza bisogna dirlo questo bisogna fare capire che nelle proposte anche che ci vengono fatte sugli investimenti sui fondi sulle rese bisogna essere ben consapevoli perché ci sono degli insiders cioè quelli che controllano il mercato che conoscono le informazioni che tendono a catturare diciamo gli outsider la casalinga di Voghera la lilla brignone dell'eclisse di Michelangelo Antonioni oltre le loro competenze ma poi agendo sulle proprie informazioni loro sanno che si salveranno mentre invece chi ne pagherà le conseguenze saranno questi investitori che non hanno una giusta educazione non hanno la giusta competenza ma credono invece a queste favole quindi è fondamentale lo schema delle bolle è sempre lo stesso dalla bolla dei tulipani nel 1600 dalla bolla delle compagnie dei mari del sud dal crollo di Wall Street del 29 da quello dell'87 da quello del Supra nel 2007 cioè c'è sempre un elemento un prodotto una scoperta un settore che si impone come particolarmente remunerativo il commercio dei tulipani perché dava la distinzione di questa nuova borghesia quindi c'è un grande concorso a comprarlo e falsare i valori le società di navigazione oceanica negli anni 20 e 700 perché avevano un monopolio e offrivano grandi prodotti nel 29 negli anni 20 le grandi compagnie che utilizzano la catena di montaggio quindi fanno grandissimi profitti e quindi offrono grandissimi dividendi le dot com nel 2000 i subprime perché la real estate cioè l'investimento sui mutui per le case esplode e quindi ha grandissimi rendimenti e allora questi incominciano a trarre sempre più operatori diventa il mercato euforico perché diventa incontrollabile la gente investe non avendo la minima conoscenza e poi assume i caratteri di una mania cioè diventa ossessiva quando si investe anche a dispetto dei primi segnali di crisi però si investe perché appunto comportamento gregario mi voglio arricchire quello si è arricchito nel la bolla dei mari del sud del 1720 di John Law è responsabile per la creazione della parola millionaire in Francia prima di allora non esisteva ma viene inventata proprio per denominare i membri del popolo che si arricchiscono facendo milioni da un giorno all'altro perché investono quanto sentito dal nobile in queste società in queste compagnie che hanno dei valori molto alti e di conseguenza a un certo punto la bolla arriva alla saturazione interviene un elemento che cambia le aspettative gli insider ad esempio incominciano a vendere perché vogliono fare denaro oppure c'è una legislazione che incomincia a porre un limite a queste speculazioni la bolla scoppia e quindi c'è poi il discredito il settore questo l'abbiamo visto nel 2008 per cui i banchieri i grandi i banchieri poi la finanza e poi le banche i tucur diventano il male assoluto John Law nel 1720 deve poi scappare in seguito con i forconi e muore scappando da Parigi a Venezia dove fa insomma passa gli ultimi anni della sua vita giocando mettendo a frutto le sue capacità calcoli probabilistici al casino di Venezia però questo è un classico di un meccanismo di questo tipo quindi l'irrazionalità che costituisce parte dei mercati finanziari anche del comportamento rispetto alla materia finanziaria deve essere educata deve essere sempre più consapevole sapere che si va in un certo punto sapere che appunto i bitcoin che promettono sono in realtà un prodotto come tanti e non possono promettere ricchezze gigantesche da un giorno all'altro da un mese all'altro ma possono come tanti prodotti come tanti investimenti essere diciamo guardati sfruttati ci si può investire ma su un lungo periodo conoscendone i rischi e i vantaggi la finanza non dà niente dall'oggi al domani ma è una base fondamentale della nostra vita senza finanza non saremmo il mondo sviluppato che siamo non ci sarebbe questa ricchezza non avremmo questi servizi pensate semplicemente dico l'ultima cosa poi lascio la parola c'è un brano anche di un altro film che non vi faccio vedere che però usiamo spesso che è La vita è meravigliosa It's a wonderful life nel 46 di Frank Capra che era il classico film natalizio per la nostra generazione guardo un po' qualcuno che ha un po' i miei stessi anni proiettato la vigilia di Natale James Stewart che è questo George Bailey che si vuole suicidare perché non riesce a pagare la rata della sua banca che è una cassa di risparmio che concedeva mutui e viene salvato dal famoso Angelo Clearance che rivede la vita ecco questa è diciamo erano queste savings banks che incominciano a erogare i mutui per consentire ai primi operai americani dopo la crisi del 29 di comprarsi la casa ed erano quali operai americani erano gli immigrati delle prime seconde generazioni gli italiani gli irlandesi i tedeschi i russi e la scelta del New Deal di Roosevelt fu quella di favorire queste casse mutue queste casse di risparmio creando le organizzazioni nazionali e federali la Fannie Mac la Freddie me per proprio consentire a questi operai di comprarsi la casa non di aspettare la fine della vita risparmiare risparmiare e comprarsi la casa alla fine perché perché c'è anche il tema della democrazia americana che è una democrazia proprietaria in questo modo si radicalizzava queste nuove generazioni sul capitalismo quindi anche il rischio del pericolo rosso del borcevismo allora del comunismo e poi ci sono state diverse ondate che però allora hanno prodotto questa grande socializzazione della ricchezza questa società americana poi invece nel 2008 il risultato dell'apertura dei rubinetti di Clinton che voleva ovviamente cosa voleva radicalizzare nella società capitalistica americana le nuove i nuovi immigrati la Dinos i nuovi margini della società quindi irradia questo con questo fiume di liquidità per sostenere il mercato della della proprietà immobiliare ma viene poi diciamo invece arrotolato in maniera speculativa dalle grandi banche d'affari che diciamo realizzano dei profitti straordinari e quindi diciamo il castello crolla però questo è un esempio di come questi meccanismi pericolativi si innestino su invece prodotti che hanno avuto una funzione di democratizzazione straordinaria non avremmo la società che abbiamo senza questo nel bene e nel male quindi questo è la tenere abbastanza in conto certo ecco professor De Luca abbiamo un commento in diretta da parte del nostro presidente Stefano Covino che ci sta seguendo in streaming e porta questa riflessione dice colpisce come questo tema il comportamento irrazionale di cui parlavamo prima può essere applicato anche in altre tematiche moderne non legate all'economia lo vediamo anche nelle reazioni alla pandemia è un commento interessante che ne dice assolutamente sì è un commento interessante perché testimonia un po' quello che si diceva prima cioè la scassa razionalità quantomeno la supposta razionalità dell'uomo dell'uomo comune se vogliamo dell'uomo medio non è l'approccio ai problemi nell'approccio alla realtà noi abbiamo fatto una rivoluzione scientifica siamo passati dal mondo del pressapoco all'universo della precisione paradigma termodinamico ma poi il senso comune l'uomo crede al complotto perché il complotto è la spiegazione più immediata più rapida rispetto anche alle difficoltà della spiegazione scientifica scusatemi non solo alle difficoltà ma anche all'incapacità della spiegazione scientifica di dare un dogma tutti pensano che la scienza sia come in questi casi come un dogma che il vaccino sia immediatamente l'arma vincente nessuno fa i conti con quello che è stato con le difficoltà con i tempi che ci sono la scienza non offre una verità per sempre non sarebbe scienza non ci sarebbe la ricerca questo è evidente ma offre la via offre degli stadi successivi dei miglioramenti in questo dobbiamo credere in questo strumento io diciamo da storico economico credo nel usiamo questo termine adesso nel vaccino perché proprio diciamo è una è un mindset generale scientifico in cui credo poi che ovvio che non è fatto ancora bene sono problemi ok però credo che appunto questo sia il percorso della scienza non voglio credere invece nel complotto negare perché quella è la soluzione più immediata più sicura che mi dà delle certezze che poi non sono certezze perché sono delle emerite infandonie ma questo è assolutamente vero noi siamo diciamo così in grado di comprendere l'intimo della natura della materia e quanto che ma poi invece viviamo in una società che è diventata sempre più ascientifica questo è il tema cioè l'economia fa parte di questo insomma alcune negazioni alcuni comportamenti irrazionali per questo che l'educazione adesso noi parliamo di educazione finanziaria ma l'istruzione è cruciale l'educazione a 360 gradi è fondamentale e uno dei problemi italiani è proprio quello di pensare che l'educazione e l'istruzione sia un un orto chiuso cioè si faccia solamente a scuola si faccia solamente all'università si faccia un po' questo pregiudizio l'educazione è invece uno stato mentale una disposizione dell'animo che i docenti che i maestri i professori i docenti i ricercatori devono trasmettere un desiderio di conoscere di conoscere criticamente sempre fino in fondo la storia insegna questo che la verità è contesa la verità non è semplice io quelli che appunto guardano indietro per trovare la soluzione quella è una delle cose peggiori perché non c'è diciamo questo è l'outlet delle verità la storia intesa in questo modo cerco indietro ognuno trova la sua trova il vaccino sì trova il vaccino no trova la scienza sì trova la scienza no ma la verità come metodo la storia come metodo è complessa e quindi è un risultato di lavoro e di discussione ecco professore c'è da parte di Caterina un commento molto interessante vai Caterina sì è la prima volta che utilizzo questo strumento quindi non pensavo uscisse come commento della semina niente mi sono ascoltando un po' la sua descrizione delle crisi economiche mi sono detta che la memoria storica è comunque importante per la comprensione di queste crisi perché forse dico forse ognuno è unica cioè non è forse inquadrabile in uno stesso modello matematico o finanziario che si ripeterebbe e quindi mi viene da dire che un'educazione finanziaria forse dovrebbe saldarsi alla storia economica e quindi anche a un approccio umanistico e invece quello che noto è che spesso si fanno steccati sia da una parte che dall'altra insegnanti disciplina umanistica no io la storia economica non mi interessa non sono competente non voglio aggiornarmi però magari anche dall'altro lato c'è la rimedicazione di un sapere puramente tecnico per cui investiamo su un sapere tecnico e magari ecco marginalizziamo un approccio più umanistico e forse bisognerebbe trovare un equilibrio un'integrazione un'interdisciplinarità forse questo me lo chiedo perché io insegno filosofia e storia e in storia io insisto molto nella spiegazione delle dinamiche economiche con gli strumenti che ovviamente questo è una considerazione assolutamente centrale è così non ci sono steccati la conoscenza è una conoscenza possiamo dire unica le prospettive poi possono essere diverse ma l'ambito di il prisma ottico deve essere un prisma molto allargato perché altrimenti no con il pregiudizio con la difficoltà con la liquidazione attraverso diciamo spiegazioni semplicistiche si finisce per escludere invece una comprensione reale la storia economica come tutte le storie è una prospettiva che aiuta a ricomporre a ricomporre il fatto quindi a ricomporre la complessità della verità la storia non è maestra di vita cioè non ci insegna niente ci fa capire delle lezioni ci fa capire che quello che si è in un determinato momento agito è stato questo genere di comportamento irrazionale e questo non è escluso che possa riproporsi con diciamo combinazioni diverse ma che possa essere quindi un elemento che porterà ancora che non è escluso per sempre che non è detto che determinate inerzie non si ripropongano le quattro parole più costose nella storia dell'umanità come ha scritto un operatore finanziario che è considerato l'inventore dei fondi comuni di investimento Sir John Templeton è questa volta è diverso this time is different con cui tutte le volte quando siamo davanti a una speculazione di questo tipo a una richiesta a un valore che incomincia a crescere tutti dicono no 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 ma questa volta è diverso e invece precisamente questo dire che è diverso in qualche modo mette tutti a riparo da un'analisi invece più realistica più complessa più allargata no? come ad esempio nel film di una grande scommessa si vede non è che la speculazione del 2000 che è culminata nella crisi del 2008 fosse diciamo nascosta no? c'erano persone consapevoli di questo infatti hanno addirittura guadagnato investendo a ribasso però deve diventare un patrimonio comune quindi la conoscenza allargata integrata fra le diverse discipline è fondamentale no? la storia offre una forma mentale che facendoti vedere come si sviluppano le cose senza volere generalizzare in maniera impropria dà una consapevolezza straordinaria cioè offre un laboratorio di come effettivamente le cose sono state in un determinato momento e quindi anche se poi l'esperimento sarà fatto in tempi diversi con parte dei soggetti diversi però vi fa vedere le relazioni fra uomini fra umani quindi fra appetiti speculativi fra ingenuità dei consumatori fra negligenze del regolatore tutti gli elementi che poi concorrono a la grande frana dei mercati finanziari o le grandi difficoltà e infatti diciamo che uno degli aspetti positivi per cui bitcoin in questo momento sono sempre diciamo all'attenzione non hanno fatto quella esplosione che si temeva è in parte anche la corretta valutazione che ne stanno dando diciamo sia alcuni operatori specializzati ma anche diciamo i mezzi di comunicazione e tutti quelli che sono sempre più finanziariamente educati vorrei se posso intervenire rapidamente lasciando poi le conclusioni a Marco e a te professore tutto molto interessante veramente molti gli spunti questo deficit del nostro impianto impianto formativo questa amnesia anche da parte degli studiosi ma soprattutto l'importanza dell'educazione finanziaria nelle scuole io direi anche nel sistema della comunicazione dovrebbe essere molto più presente la mia domanda in chiusura sarebbe questa noi ti ringraziamo molto perché ci hai dato questa opportunità e ci accennavi al fatto che qui c'è un comitato che sceglie il mese di ottobre quali sono le finalità di questo comitato e perché ci hai offerto questa possibilità qual è insomma lo scopo dell'attività divulgativa che tu porti avanti insieme al comitato grazie ancora poi Marco concluderà insieme a te grazie sì allora il mese di ottobre è stato scelto perché è il mese in cui tradizionalmente le scuole incominciano le scuole di quasi ogni ordine grado e in cui poi negli altri paesi si teneva e si tiene la settimana la World Investor Week cioè la prima settimana di ottobre è la settimana istituzionale degli investitori dove si trovano questi operatori internazionali quindi il Ministero per lo Sviluppo Economico alla Presidenza del Consiglio ha creato questo comitato in cui ci sono la Consob che è la diciamo l'autorità regolatrice dei mercati finanziari è il corrispondente della SEC americana in cui c'è la Banca d'Italia che è la ex banca centrale banca centrale italiana che svolge molti ruoli e poi ci sono anche tutte le associazioni bancarie AB e quanto altro che comunque svolgono una una certa attività in questa direzione ci sono anche tutte le banche e le cosiddette aziende delle FinTech cioè della tecnologia digitale che quindi spingono verso un'educazione e attraverso l'educazione anche una conoscenza dei nuovi meccanismi finanziari lo scopo è proprio questo lo scopo è quello di alzare il livello di consapevolezza per agire su le due gambe del problema da un lato sul benessere individuale da l'inizio diciamo fin dalla tenera età fino all'età diciamo finale negli stadi della nostra esistenza rendendo le donne se vogliamo più autonome quindi meno vincolate ad alcune trappole emotive psicologiche quanto altro i giovani più responsabili del valore più responsabili dell'investimento delle spese della capacità di accumulare e dall'altro a livello invece macro a livello diciamo aggregato alzare il livello medio del mercato finanziario cioè della domanda di chi entra in questi mercati se la domanda è una domanda più qualificata più consapevole ce ne sarà un beneficio complessivo le crisi saranno sempre meno alla portata di mano degli speculatori ma anche complessivamente il livello generale sarà più alto perché un consumatore di prodotti finanziari più avvertito più qualificato dovrà dall'altra parte richiederà che le banche le aziende i fornitori i provider di servizi finanziari devono essere più qualificati più bravi magari spuntare prezzi più di favore per i consumatori e quindi il livello generale della ricchezza complessiva si alza della distribuzione quindi è un benessere individuale e collettivo sicuramente ed è quindi l'educazione per il bene comune l'educazione come bene comune per tutti è un po' piantare se volete l'albero di olivo che noi tutti facciamo per cui si fa a tutta l'età si fa in tutti i momenti della vita lo facciamo adesso lo fanno le persone che possono trarne i frutti ma lo fanno quelli che credono anche le nuove generazioni io spero che non le vedrò ma insomma le crisi finanziarie come le abbiamo viste dei mercati così poco qualificati poco capaci di scrutinare effettivamente ma che in qualche modo passatemi le espressioni abboccano tutte le esche poco a poco finiscano anche perché le generazioni che stanno arrivando sono delle generazioni sempre più digitalizzate ma è importante che questa digitalizzazione sia alfabetizzata perché altrimenti diciamo i meccanismi di speculazione di fraudolenza anche in queste tecnologie aumentano moltissimo i rischi che ci sono quindi in queste nuove digitalizzazioni sono altissimi quindi quelli che promettevano bitcoin fai il tuo portafoglio fai quanto altro però il bitcoin comunque adesso sempre più accreditato ma ha dei profili di incertezza non indifferenti quindi anche chi sfrutta determinati canali ed è ad uso a determinate tecnologie deve avere sempre una diciamo consapevolezza molto molto importante in questo ambito grazie Marco puoi concludere tu a questo punto sì beh innanzitutto ringrazio il professor De Luca col quale abbiamo anche scoperto di aver avuto un magnifico insegnante di storia economica in comune che è Giovanni di Vigo e ringrazio la semina il ringraziamento è particolare perché devo dire che in questa conferenza il professor De Luca ci ha dato sia delle informazioni anche molto pratiche anche se vogliamo un po' dei consigli quindi un po' di esercitare lo scetticismo di fronte a tante cose ma come è giusto che sia secondo me in una conferenza in un evento della semina anche tantissimi stimoli che vanno sono andati da qual è il ruolo dei sistemi educativi la relazione tra discipline tecnico-scientifiche e umanistiche ma anche in maniera penetrante limiti della teoria laddove si posta la razionalità umana quindi e non ultimo devo dire anche se non abbiamo avuto il tempo di approfondirlo in realtà dei segnali sono anche come si sovrapponga spesso anche la politica a queste tematiche e quindi se vogliamo anche il ruolo delle istituzioni che le istituzioni dovrebbero avere quindi un insieme vastissimo di stimoli per il quale ripeto ringraziamo il professore e come dire materia di approfondimento un po' per ciascuno di noi e di chi ci sta seguendo da parte mio ringraziamento a tutti e un arrivederci alle prossime iniziative insomma arrivederci 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 grazie a tutti grazie alla prossima alla prossima buona serata buona serata buona serata